Io penso che questo pezzo, il dritto, sia uno dei pezzi più ripiti, dove sta la S praticamente, quello è il pezzo più ripido che abbiamo tutto il comprensorio, diciamo, della parte discesa. Si richiama l'attenzione all'elevato grado di difficoltà dei treni. Allora questo terreno oggi muri ad ora perché non farlo è un crimine. Un trail così con un terreno del genere può accompagnare solo. Vadi! Quanto regge oggi? Spettacularis! Bello! Che spettacolo di trail! Mi tocco a sbagliato strada! Freeride! Buco! Buco! Come si scende bene! Io penso che questo pezzo, il dritto, sia uno dei pezzi più ripiti dove sta la S praticamente, quello è il pezzo più ripido che abbiamo tutto il comprensorio, diciamo, della parte discesa, non dei salsi. Sì, sì, assolutamente. Andiamo? Vai, vai, vai! E quindi Angelo passa in vantaggio? È come Dick Dusterly! Passa avanti con trucchetti! Dick Dusterly, pilota dell'astuzia proverbiale! Salve signora! Che goduria! Domenico ha scordato come Susan e Fred! Domenico ha scordato come Susan e Fred! Bikers gone wild! Come si scende oggi! Bikers! 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 Sfonda! Sponda! Passaggio alto! Ole! Tutto chiuso a destra Vedi a segui Angelo Rieta a fare cose Guarda che ingeggata Concludiamo con il salto disney Olè Spettacolo